Da Rdrink, il bicchiere è sempre mezzo pieno. Vino della Cantina Molettieri delle varietà Aglianico, Fiano e Greco, ogni 6 bottiglie e una in omaggio. Caffè in cialde espresso compreso di kit zucchero, bicchieri e palettine, 150 pezzi a 15 euro. Acqua sorge sana da 2 litri in confezioni da 6 bottiglie a 1 euro. Rdrink, soddisfa tutte le esigenze con vendita di vino alla spina e la varietà dei prodotti proposti in azienda. Per le consegne a domicilio telefonare allo 0825 26 163. Grazie a tutti.